L'Imolesi è una squadra estremamente fastidiosa, conosco tantissimi calciatori per averla allenata, conosco e nutro grande stima dell'allenatore, conosco il direttore sportivo, io so che sarà una partita difficilissima, è una squadra che sta facendo molto bene, è una squadra che gioca bene, è una squadra che sa fare la prima costruzione, ha giocatori estremamente tecnici, è una squadra che sa mettere pressione in ogni zona di campo, quindi è una partita che secondo me può venire fuori molto bella perché sono due squadre estremamente propositivi. Poi è chiaro che quando una squadra vince a Viterbo, pareggia col Ceseno, pareggia col Siena, è chiaro che all'interno della Rosa hanno dei valori, se no questi risultati non li fai. Chi saprà pressare meglio, secondo me, avrà tanta possibilità di portare il risultato dalla propria parte ed è per questo che c'è bisogno di giocatori che possano dare il 100% e soprattutto che abbiano grandissima intensità e abilità nel portare sia il contrasto per recuperare la palla, oppure grande capacità di pressione per tenere la palla chiusa e evitare verticalizzazioni o cambi gioco della squadra avversaria. Grazie.